Grazie, grazie ai sindaci, grazie alle amministrazioni locali, a tutti gli amministratori locali, grazie ai prefetti per il grande lavoro che stanno facendo assieme ai questori, a cui pure va il ringraziamento mio e della regione che rappresento. Il grande lavoro delle istituzioni, il primo presidio per il cittadino. Oggi ci stiamo accorgendo tutti della responsabilità che gli amministratori hanno per i propri cittadini. E poi c'è anche chi non si smentisce mai. Mentre è in gioco la vita c'è chi fa polemica, una sola parola ho per questa gente, vergogna. Però grazie sempre a tutti i molisani. Sto ascoltando e mi stanno riferendo storie di straordinaria solidarietà. Chi invia spese a casa di famiglia in difficoltà, chi tiene compagnia telefonica ai soggetti che hanno bisogno di essere confortati. Ci stiamo mettendo il cuore tutti e lo stiamo facendo alla maniera dei molisani, con discrezione. Senza dire io l'ho fatto, io l'ho regalato, lo facciamo in silenzio. Sono orgoglioso della nostra comunità. Sono i giorni più delicati. Restiamo a casa e aspettiamo fiducia. Voglio che sappiate che la regione c'è. Io ci sono. Tutta la struttura è attiva. I sindaci ci sono. Pinciamo insieme. Guardate userno. Division ci sono. Grazie.